Ciao amici Vaglio Investor, in questo video scopriremo le 20 posizioni del nuovo portafoglio di Monish Pabrai, perché il 29 settembre 2023 Pabrai ha aperto un nuovo fondo, il Pabrai Wagons Fund, che tra l'altro lo trovate su Interactive Brokers, quindi se vi piacerà potrete investirci. Perciò in questo video vedremo qual è la filosofia e la strategia di investimento del fondo, gli obiettivi del fondo e quali sono le 20 posizioni del portafoglio. Nella presentazione sul sito web c'è scritto, crediamo che una performance eccezionale degli investimenti sia solitamente il prodotto solo di pochi grandi investimenti mantenuti per un tempo molto lungo. Il trucco non è solo trovare i grandi investimenti ma anche non venderli. Per quanto riguarda i principi del fondo quindi abbiamo che ci sono solo posizioni long in azioni, quindi niente short e nessun altro asset. Azioni globali, quindi geograficamente non abbiamo limiti, un portafoglio concentrato con idealmente 15-25 posizioni, quindi diciamo idealmente intorno alle 20 posizioni e le aziende obiettivo del fondo sono quelle che hanno una crescita durevole e capaci di reinvestire i loro profitti, con un management onesto e soprattutto azioni in cui ci si sente sereni a tenerle per un periodo di tempo molto lungo. Per quanto riguarda le performance nei primi tre mesi dall'apertura del fondo, come potete vedere sono ottime, ma è chiaro che non ha senso vedere le performance di un portafoglio su appena tre mesi. Infatti anche Pabrai dice che è molto improbabile che il fondo mantenga questo ritmo e dice che l'SP500 sul lungo termine ha avuto un rendimento di circa l'11% contando anche i dividendi e il loro obiettivo è quello di battere l'SP500 sul lungo periodo. Altri principi del fondo sono quelli di non tagliare i fiori e annaffiare le erbacce, ma lasciar correre quindi le azioni che salgono, quindi niente ribilanciamenti. E inoltre non pagare troppo per le aziende, anche se dovessero essere eccezionali, l'obiettivo è sempre comprarle a prezzi decenti. Focus su aziende con ampi mot e che hanno dimostrato di poter reinvestire il capitale ad elevati rendimenti senza trucchi contabili o troppo debito. Ora andiamo a vedere quali sono queste 20 posizioni. Chiaramente non le analizzerò, ve le presenterò solo perché sono ben 20 e partiremo dall'ultima posizione, cioè il cash. 6.8% del portafoglio è in cash, quindi c'è ancora liquidità per incrementare qualche posizione o aggiungerne delle nuove. La prima azione, cioè l'ultima in termini di peso nel portafoglio con solo lo 0.8% del portafoglio è ebay. Penso che l'abbia presa perché ha moltipli molto bassi, tipo un pie di 10, anche se solo 0.8% del portafoglio ci fa capire che non è che sia poi così tanto convinto. Vedremo se incrementerà nei prossimi trimestri. Poi abbiamo con il 3% del portafoglio Tiny LTD, una small cap con solo 13 milioni di market cap. È canadese ed è una società di venture capital e private equity specializzata in buyout. Non la conosco e quindi so dirvi davvero poco. Poi abbiamo l'olandese Topicus, sempre con il 3%. È una società di software verticali, cioè software specializzati in determinati settori e cresce soprattutto tramite acquisizioni. Quindi è una serial acquirer. Sembra un'ottima azienda, è uno spin-off di Constellation Software, un'altra bella azienda. Poi abbiamo Paypal che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, quindi Pabrai pensa che al momento Paypal sia ad un buon prezzo e che sia un'azienda di qualità stando a quello che è la strategia del fondo. Poi abbiamo First Citizen Bank Shares, 21 miliardi di market cap ed è una banca in sostanza, business che a me piacciono poco e sono al di fuori del mio circolo di competenza. Poi AutoNation, il più grande retailer di auto negli Stati Uniti, che è un business che una volta Pabrai disse gli piaceva molto come genere di business la rivendita di auto. Secondo lui è un modello di business molto profittevole e la stessa cosa disse in un'altra intervista Warren Buffett. Poi abbiamo Amazon e anche qua non c'è bisogno di presentazioni. Azienda di ottima qualità. Poi Esbury Automotive e anche questo è un rivenditore di auto, 4 miliardi di market cap ed è un competitor di AutoNation. Poi un'altra azienda legata al settore auto ed è italiana. Brembo, ottima azienda con 3.6 miliardi di market cap e un piedi 12 e come sapete è leader nei sistemi frenanti nel settore auto, moto e veicoli commerciali e industriali. Fa piacere trovare finalmente un'azione italiana nel portafoglio di un super investor. Poi abbiamo Brookfield, un asset manager focalizzato in real estate, infrastrutture, energie rinnovabili e venture capital. Una market cap di oltre 60 miliardi di dollari è canadese e Pabrai ha già parlato diverse volte di questa azienda e ha sempre detto che il CEO della Brookfield, Bruce Flat, è uno dei più abili asset allocator in circolazione. Poi abbiamo Spirit Airlines, una compagnia aerea abbastanza piccola con 5 miliardi di capitalizzazione. È un business che personalmente non mi piace quello delle compagnie aeree e d'accordo con me anche gente come Warren Buffett e Terry Smith perché è molto capital intensive, è molto competitivo e anche ciclico. Ma forse Pabrai ritiene che questa azienda sia molto sottovalutata. Poi abbiamo Constellation Software, l'abbiamo citata prima, 60 miliardi di dollari di capitalizzazione, è una serial acquirer, cioè un'azienda che cresce per acquisizioni di business di software verticali. Abbiamo spiegato prima cosa sono, sono software specifici per determinate attività, ad esempio supermercati, oppure per le delizia, oppure per le officine meccaniche, eccetera. È un'azienda di elevata qualità e il cui CEO Mark Leonard è una specie di Warren Buffett per quanto riguarda l'asset allocation. Poi abbiamo Microsoft, altra azienda che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente azienda di ottima qualità. Poi c'è Arch Resource, 3 miliardi di market cap che produce e vende prodotti metallurgici e gestisce diverse miniere di carbone. L'azienda vende i suoi prodotti a produttori di servizi pubblici, industriali e siderurgici negli Stati Uniti e a livello internazionale. È un settore alla Pabrai questo, che per me non piace, settore molto ciclico. Poi abbiamo un'altra azienda simile operante nel settore del carbone, Warrior Met Coal, e questa azienda vende anche gas naturale estratto dalla produzione del carbone. Settori lontani anni luce dal mio circolo di competenza. Poi abbiamo un'azienda turca, ed è la Tav Avali Manlari, che nome, in cui Pabrai sembra avere tantissima convinzione, visto che ci ha investito col 7.7% del portafoglio e della posizione numero 5. Solo 2 miliardi di market cap, azienda che costruisce e gestisce aeroporti in Turchia e in molti paesi emergenti, come ad esempio Kazakistan, Georgia, Qatar, Arabia Saudita, ma anche in Spagna. E poi abbiamo Alpha Metallurgical Resources, un'altra azienda di carbone, 5 miliardi di market cap. Sono business che non comprendo, come detto prima, ma in cui Pabrai sembra super convinto, visto che ci ha messo l'8.5% del portafoglio in questa posizione. E indovinate chi c'è sul podio alla terza posizione? Ma ovvio, un'altra azienda di carbone, cioè Console Energy, con ben il 9.2% del portafoglio, market cap di 2 miliardi e mezzo di dollari, e poi al secondo posto un'azienda turca con un nome impronunciabile, chiamiamola solo Anadolu per semplificare, a quasi il 10% del portafoglio di Pabrai, 3 miliardi di market cap e vende bevande alcoliche come birra, ma anche analcoliche, cioè soft drink, e vende in Turchia e anche a livello internazionale. Inoltre ha anche la licenza di vendere con il marchio Coca-Cola. E al primo posto, con il 10% del portafoglio, abbiamo un'altra azienda turca. Coca-Cola Icecec, non so se l'ho pronunciato bene, 5 miliardi di market cap ed è un imbottigliatore di Coca-Cola in Turchia. Imbottiglia e distribuisce in Turchia quasi tutti i brand di Coca-Cola, quindi non solo Coca-Cola ma anche Powerade, Sprite, Monster, perché Coca-Cola ha una quota importante in Monster, eccetera. Allora, queste sono le 20 posizioni, facciamo un po' di considerazioni. Sembra un portafoglio diversificato al punto giusto, non troppo, perché ci sono fondi che spesso esagerano, con tipo 40-50 posizioni, e a primi posti quelli che pesano di più hanno al massimo il 3-4%. Qua invece la storia è ben diversa perché le prime 5 posizioni fanno circa il 50% del portafoglio. Però c'è una buona diversificazione geografica, ma anche a livello di capitalizzazione, ci sono small cap, medium cap, large, mega, e ci sono anche settori abbastanza diversi, perché abbiamo e-commerce, fintech, automotive, energetici, software, abbiamo diversi settori. Guardando le prime due posizioni ci sono due imbottigliatori di Coca-Cola e Pabrai ha sempre detto di amare questo genere di business perché in pratica lavori in regime di monopolio o oligopolio, perché non è che ci sono 30 imbottigliatori di Coca-Cola in uno stato, ce ne sono pochi e solitamente hanno un contratto di esclusiva territoriale, quindi sono dei business fantastici. Poi abbiamo tantissime aziende di carbone, anche tra le prime posizioni, quindi penso che Pabrai ritenga questo settore molto sottovalutato. Inoltre abbiamo anche diverse aziende legate al settore auto, come rivenditori di auto, ma anche produttori di componenti come Brembo. Quindi ne deduco che Pabrai sia bullish anche su questo settore, anche se non ha aziende produttrici di auto, ma business legati all'auto che sono generalmente più profittevoli. Non so se può essere un buon fondo in cui investire, le premesse sembrano interessanti, cioè i principi e la strategia alla base del fondo. Ovviamente bisogna fidarsi di Pabrai, cioè chi decide di comprare questo fondo? Sceglie Pabrai non tanto le posizioni nel portafoglio, altrimenti se lo farebbe da sé il portafoglio prendendo magari spunto dal suo. E qui c'è la grande incognita, perché Pabrai spesso dice una cosa e poi ne fa un'altra. Un esempio a caso, Micron, aveva detto diverse volte che fosse un business eccezionale, addirittura una potenziale multi-bagger e poi improvvisamente l'ha venduta. E il bello è che da quando l'ha venduta il titolo è salito anche di parecchio in borsa, quindi ha fatto perdere un potenziale guadagno importante ai suoi investitori non mantenendo la promessa di investire idealmente per sempre come predica. Non so, fate i vostri ragionamenti e valutazioni, scrivete nei commenti o meglio ancora scrivete nel circolo dei Value Investor in nostro gruppo Discord, così potete discutere con persone che parlano la vostra lingua, tra virgolette. Per rientrare nel gruppo vi basterà supportare il canale con una piccola donazione su Patreon, link in descrizione, un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide!